E pensare che un tempo potevamo stare in silenzio, per ore, solo guardandoci negli occhi. Non mi sembra nulla di trascendentale. Lo dici tu? A me fa schifo. Qualunque donna lo farebbe per il proprio uomo. Tu no. Me lo fai per farmi rabbia, lo so. Manco ti avresti chiesto la luna. Non vedo perché dovrei fare una cosa che mi ripugna solo per farti piacere. Hai detto bene. Per farmi piacere. Questo è il problema. Esiste anche l'altruismo, Cristo. E l'amore è altruismo, o no? Ma senti chi parla. Te la sei dimenticata la discussione sulla cravatta gialla e blu? È durata mesi. E lì Chiara è l'egoista. Meno male che è intervenuta tua sorella a farti ragionare. Sì, sì, si, cambia discorso. Altrimenti... Ma lo vuoi sapere una cosa? Anche Gianni è d'accordo con me. Poi non parliamo di Piero e Chiara che ti ridono alle spalle. Gianni, buono quello. Ma l'hai vista con la poveretta della fidanzata? Sembra un fenomeno da baraccone. Sì, sì, ma almeno lei è se stessa. Non ha paura dei commenti. Non è una provinciale. Provinciale? È certo. Lo stai dicendo a me, lo so. La verità è che te non mi accetti per quello che sono. sempre il tuo giudizio su di me, sempre critico, mai soddisfatto, eppure offensivo, incivile e cafone. Senti, Anna, lo capisci quello che dico? Ti sto chiedendo una cortesia, una piccola cortesia. Perché non mi accontenti? Lo so io perché. Perché tu sei lo spirito della contraddizione. Non ti costerebbe nulla. Sei un malato a chiedermi una cosa del genere. Ma vada lo psichiatra invece di ascoltare quei tuoi amici del cazzo. Che ovvio ti danno sempre ragione. Perché gli conviene. Del resto, nessuno ti ha mai insegnato a riconoscere che cos'è la vera amicizia. Chiunque mi darebbe ragione. Chiunque? Vediamo. Sapesse quanto ho bisogno del giudizio di un'estranea? Ma secondo lei, non ho ragione quando dico che una donna o un'estranea, E chiedere troppo? No, mi dica. L'ho fatto, decine di volte. Se l'ha fatto, decine di volte. Due volte in tre anni. Al matrimonio della sorella Capodanno del 2000. Non è vero, sei un bugiardo. Ma a parte questo, quello che... Mia madre me lo diceva. Stai attenta, è solo un despoto responsabile. Sei una stronza egoista. E tu un superficiale. Feminista del cazzo. Che pensa solo alle apparenze. Ma si rende conto che squallore? Discutere così da giorni. E solo per un paio di scarpe col tacco. Adesso mi dica che non ho ragione. Adesso mi dica che non ho ragione. E pensare che un tempo potevamo stare in silenzio, per ore, solo guardandoci negli occhi. E pensare che un tempo potevamo stare in silenzio. E pensare che un tempo potevamo stare in silenzio. E pensare che un tempo potevamo stare in silenzio.